Di nuovo buongiorno a tutti, il caso di una donna di 71 anni in apparente buona salute che ha un sintomo molto specifico, perdita di capelli, decide di sottoporsi a degli esami di controllo. Agli esami di controllo l'unica cosa che emerge è un'iperferritinemia. C'è da sottolineare che questa signora è un'ex infermiere assistente sanitaria, circondata, che ha lavorato sempre in un contesto medico, ospedaliero, quindi ha un entourage di medici, i suoi conoscenti, amici, eccetera, per cui le viene consigliato e decide di sottoporsi ad altri accertamenti. E la prima cosa che quindi farà sarà un'ecografia dell'addome, però lasciamo un attimo il risultato di questa ecografia per vedere in che contesto. Cioè la signora tutto sommato sta bene, ha un'alvona diuresi irregolari, non fuma, non beve, nell'infanzia nessun problema particolare, una menopausa fisiologica, una gravidanza, genitori, la madre è deciduta per cirrosi, il padre per un problema di aneurisma ortodominale. In anamnesi patologica remota le uniche cose che ci possono in un certo senso avvicinare al pancreas e alla via biliare sono che è portatrice di un'alettiasi della colecisti e che ha un diabete in terapia con antidiabetici orali in buon compenso in paziente che è normotipo e non obesa. Gli altri dati sono dati tutto sommato che non hanno attinenza a relazione con la patologia pancreatica o biliare, biliopancreatica. Per cui torniamo all'ecografia che esegue nel marzo 2010, in data 26 marzo 2010, e qui vi pregherei di prestare attenzione anche alle date, in data 26 marzo esegue questa ecografia dove viene segnalata in sede per i pancreati che è a limite fra corpo e testa una sfumata immagine tondeggiante ipoecogena di circa 15 mm di diametro e viene consigliata una valutazione con TAC dell'addome. Quindi si sottopone all'attacca dell'addome e all'attacca dell'addome la sorpresa è che non viene rilevata nessuna tumefazione, l'unico dato degno di nota è una dilatazione del virsung in corrispondenza del corpo e della coda, quindi non sono evidenti tumefazioni pancreatiche e con particolare riferimento alla sospetta lesione segnalata in ecografia e quindi si consiglia un monitoraggio ecografico di questo reperto. Per il resto l'attacca, un'attacca mirata allo studio pancreatico, quanto si legge nel referto, eseguita in data 1 aprile, non mette in evidenza, non conferma il dato ecografico. Quindi la signora che cosa fa? La signora forse è sicura di star bene, non ha nessun disturbo in apparente salute e decide di temporeggiare. Quindi arriviamo al settembre 2010, circa 5-6 mesi dopo la prima ecografia. Ripete l'ecografia, l'ecografia invece rileva ancora la neoformazione, che la descrive come lesione focale e poecogena a margini frastagliati di 18 mm in corrispondenza al distimo pancreatico. E la porzione a monte del virsung appare dilatato con calibro di 5 mm, reperto meritevole di approfondimento con risonanza magnetica. Per il resto si conferma la collelitiasi nota e non ci sono altre lesioni degne di nota. Arriviamo alla risonanza. La risonanza magnetica, che quindi esegue in data 21 ottobre 2010, dove il pancreas ha aspetto atrofico, in corrispondenza del corpo della coda e sessoge discreta ectasia del dotto di virsung, quindi viene confermato il dato riscontrato all'attacca, non sono però rilevabili lesioni focali o formazione a carattere espansivo in tale sede. E anche qui la collecistilitiasica nota, esegue ovviamente tutte le varie fasi per lo studio del pancreas e della via biliare, la colangiorisonanza, la virsung risonanza. Quindi a questo punto decide di consultare un chirurgo di sua conoscenza, il quale, vista la documentazione, decide di discutere collegialmente con altri colleghi chirurghi, per cui viene consigliata una ecoendoscopia. Alla ecoendoscopia, che esegue nel novembre 2010, la lesione ipoecogena, con microspotti per ecogeni di 20 mm di diametro, a margini irregolari dell'istimo pancreatico, appare clivabile dai vasi mesenterici e dalla confluenza portale, il dotto di virsung a monte della lesione presenta un decorso tortuoso di calibro dilattato, non l'infodenopatia del tripode, per il resto reperti di normalità e si esegue un fine needle aspiration per un citologico. Quindi arriviamo in data 25 novembre, la paziente viene in possesso dell'esito dell'aspirato e che risulta essere positivo per cellule tumorali maligne. Cellule tumorali maligne, che vengono definite ghiandolari, da loro disposizione pseudopapillare. E allora, quindi, adesso a distanza di circa dal marzo fino al novembre, di circa 7-8 mesi dal primo riscontro ecografico, arriviamo alla chirurgia e alla laparotomia la sorpresa è fondamentalmente due sorprese, oltre alla nota lesione della testa di istmo pancreatico, una adesione della lesione alla vena porta al di sopra della confluenza spleno mesenterica e qua potete vedere che è stato necessario rimuovere un gettone sulla vena porta con anastomosi per mezzo di struttura diretta con dei punti separati sulla vena porta e questo è il pezzo operatorio dove si vede il moncone gastrico, il duodeno, la prima ansa digiunale, la testa istmo del pancreas, l'altra sorpresa, come dicevo, un gettone infiltrante la flessura epatica del colon e quindi è stato necessario fare una emicolectomia in bloc, un'emicolectomia destra con la sua parte di aumento ovviamente in blocco con tutto il blocco duodenopancreatico e questo quindi è il pezzo operatorio e non siamo ancora in possesso dell'esame istologico perché l'intervento è del 7 dicembre e quindi molto recente però ci sembrava interessante portare alla vostra attenzione questo caso io vi ringrazio per l'attenzione no vabbè, in questo caso al di là della valutazione semiotica del dato se si vede o meno l'atrofia c'è anche un errore nel management poi del quadro cioè la discordanza rispetto all'ecografia che ti induce a dire vabbè, facciamo un controllo ecografico io passerei a un'altra metodica assolutamente io passerei a un'altra metodica in questo caso quello sicuramente è vero però è difficile pensare al medico di base come colui che debba interpretare quindi a fronte no, a fronte di un'indicazione del radiologo quindi si consiglia monitoraggio ecografico di tale reperto mi sembra un po' azzardato cioè io sto dicendo è il radiologo che dovrebbe consigliare è tutto molto discutibile però io penso che questo caso sia abbastanza patognomonico di quel che si diceva cioè effettivamente il pancreas che è un tempore X unt leones rimane ancora quell'area della carta geografica la almeno patologia addominale un po' misconosciuta eccetera perché non ci sono solo centri e radiologie come la vostra dove si conosce bene si fanno bene le cose esiste poi tutto il resto e noi dobbiamo purtroppo far conto anche con tutto il resto l'altro dato che esumerai da questa storia è che un tumore comunque che sembra piccolo comunque un centimetro e otto e che anche all'ecoendo che pure è stata molto valida come metodica perché ha permesso anche di arrivare a una diagnosi di certezza l'infiltrazione vascolare non si è vista invece noi abbiamo trovato un'infiltrazione vascolare in un tumore quindi piccolo nel quale anche l'ecoendo non l'ha visto volevo per concludere dire una cosa ovviamente nell'attacca anche io ho fatto fatica a vedere il corpo coda del pancreas per cui ho cercato di scegliere le immagini che più o meno potevano essere significative per dare un'idea e la risonanza ha avuto delle difficoltà proprio tecniche essendo stata fatta in altra sede a riuscire a fare le immagini da mettere nella presentazione la cosa importante penso che sia il messaggio insomma comunque è un caso che ha aperto una discussione un dibattito quindi mi è sembrato interessante al di là che mancano le immagini della risonanza insomma mi è sembrato comunque un caso che è interessante da discutere grazie a voi poi ricordiamoci una cosa che siamo infallibili non infallibili in carità proprio senza voler sbrodolarsi complimenti dire che la nostra radiologia è una radiologia d'avanguardia penso che nessuno possa metterlo in discussione ma che l'errore è dietro l'angolo e possiamo anche pensarci un po' tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti